Oh, il mio cioccolato! Intendi, il mio cioccolato! Ehi, l'ho visto io per primo! Non è bene! Dammelo! L'hai rotto! Ah! Beh, non importa! Mmm! È l'ora della gomma da masticare! Sì! Mmm! Guarda qua! Quello non è niente! Leo! Sta' attento! Scommetto che posso farne una ancora più grande! Ah, sì? Ah! Che maleducata! Ora ti faccio vedere io, pronta! Oh, oh! Il tuo cactus è sfacciato! Beccati questa! Ehi, fermati! Non mi pento di nulla! Oh, così sei ingiusto! Ora ti mostrerò una vera bolla! Eh, Julie! Sta diventando troppo grande! Ho paura! Oh! Cos'è questo posto? Sento odore di sfida! Dopo di te! No, tu! Sei così dolce! Wow! Sarebbe una gomma! Interessante! Non l'avevo mai vista in un tubetto! Forte, eh? Sì! Non vedo l'ora di provarla! Oh sì! Guarda un po'! Mh, mi piace! Sembra buona! Mh, ancora! Tocca a te! Ok! Cosa sono questi? Ti prego, dimmi che sono cioccolatini! C'è solo un modo per scoprirlo! Sono così belli! Sembrano un fiore! Adoro i fiori! Vorrei correre in un prato fiorito! Uh-huh! Sì! Sì! Qualcosa mi dice che mi piaceranno! Ma prima ho del lavoro da fare! Riuscite a capire cosa sto preparando? Un lecca-lecca di cioccolato! Ora lo incartiamo in questo modo! E chiudiamo bello stretto! Qualcuno vuole un bouquet di cioccolato? Che carino! Ma ho bisogno di qualcosa che li tenga tutti in ordine! Ecco, ci siamo! Ho bisogno di qualcosa per chiuderlo! Bene, ci siamo! Anche nero è molto bello! Vedete gli strati? Wow, non è favoloso! Potete tenerlo per voi oppure regalarlo a qualcuno! Vedi? Oh, wow! Rimane solo una cosa da fare! Oh! Lo so, sembra ottimo, eh? Oh, guarda l'interno! Basta, lo faccio sparire! Wow! Aspetta! Facciamo a cambio? Meglio di no! Ok, e va bene! Aspetta, bolla gigante in arrivo! Guarda! Oh, sì! Questa è da record! Solo un paio di nodi qua e là? Lo adorerai! Che diavolo è quella cosa? Posso fare anche io un bucce, vedi? Palloncini a forma di fiore! Allora che ne dici? Ti piacciono? Wow! E' tutto tuo! E' tutto tuo! Davvero! Posso avervi! Questa cosa è enorme! Adoro gli scambi! Come si mangiano questi cosi? Prima tu! No, tu! Sei proprio in city! Wow! Gomma a strisce! Che figata! Quanta dovrei mangiarne? Tutta? Penso di poterlo fare! Sembra vero nastro adesivo! Arriva! Wow! Mmm! Miam! Sembra buona! Aspetta un attimo! Posso morderla così! Fantastico! Perché perdere tempo, giusto? Oh, è fastidiosissimo! E' meglio così, Julie! Posso mangiarla molto più velocemente! Sì! Sta a calma! Non apri il tuo? Ok, vediamo! Oh, non mi dispiace per niente! Sì, è la mia barretta di cioccolato preferita! La parola chiave è mia! Stavolta niente scambi! Chiaro? Guarda che bontà! E lo mangio in un modo tutto mio! Devo arrivare al biscotto all'interno! Mmm! Quanto caramello! Ma che diavolo! Non criticare finché non lo provi! Sono quasi arrivata al biscotto! Capirai! Finiremo a Natale! Un'attesa che vale assolutamente la pena! Ok! Ehi! Facciamo un po' di bolle! Sta diventando un po' troppo grande per i miei gusti! Problema risolto! Wow! Accidenti! Leo! Non riesco a fermarmi! Sta volando velocissimo! Attenzione alla lampada! Accidenti! Oh, perché l'hai fatto? Guastabone! Prima io! Fantastico! Che cos'è? Una piccola torta al cioccolato! Adorabile! L'aspetto è sicuramente gustoso! Sarò io a giudicare! Wow! Guarda che cuore morbido! Oh sì! Sarà buonissima! Wow! Mi scusi! Il primo morso è sempre il migliore! Guarda che bellezza! È ancora meglio di quanto pensassi! Ah sì! È tutta tua, lo so! Perché non darle una marcia in più? Adoro inzuppare cose! Cioccolato su cioccolato, baby! Mmm! Lo so! Sono un genio del cioccolato! Ora tocca a me! Wow! Sembrano piuttosto rinfrescanti! È un sapore che non ho mai provato! Ma c'è una prima volta per tutto! E perché provarne una quando posso averle tutte? Diamoci dentro! Mmm! Per fortuna ho una mascella forte! Dammi solo qualche altro secondo! Ecco che arriva! Forte! Se lo dici tu? Non ho ancora finito! Uh! Che cos'è? Gelatina di lamponi, baby! Mmm! Buonissima! Uh! Anche un po' astra! E ora con la gomma tropicale! Andrò a creare una bella bolla rosa! Cavolo! Fai attenzione! Ci sono quasi... Era solo il riscaldamento! Che intendi? Questo! Preparati a un'esplosione di frutta! Aspetta! Ecco che arriva! Sì! E' come se avessi un arcobaleno in bocca! Che forte! In effetti! Fanno una con me! Considera l'ho fatto! Ecco che arriva! Oh! Sono proprio carina! Non per vantarmi! Evviva! Sono contento che ti sia piaciuta! È stato divertente! Sei pronta? Yuhuu! Oh! Wow! Guarda tutta quella bontà cioccolatosa! Sembra ottimo! Non vedo l'ora! Devo assaggiarla! Adoro questi biscotti! Ecco che vado! Beh? Com'è? Beh, è ok! Oh! Io lo so! Hai bisogno di un bicchiere di latte! Grande idea! Prendi un biscotto! Grazie! Ma prima devo aprire il biscotto! In questo modo! Poi dagli una leccata! Ora possiamo immergerlo nel latte! Perfetto! Com'era? Molto buono! Non immaginavo! Cosa hai tu? Mi ero quasi dimenticata! Gomme! Proprio quello che serve dopo uno spuntino! Devo mantenere l'alito fresco! Dammi, dammi! Non è stata una buona idea! Wow! A loro le gomme piacciono un sacco! Proviamo di nuovo! Ah! Gomme! Ecco qua! Sono così popolare! Non masticate tutti in una sola volta! Mi prendo cura dei miei amici! Eh? È vuoto! Non ce n'è più niente! Oh, che delusione! Vabbè! Come farò adesso? Puoi avere un altro cookie? Sei un vero tesoro! Grazie! È ora per il prossimo round! Aspetta! Vado io per prima! Sai che c'è? Prima tu! Grazie! Oh sì! Ora sì che va meglio! Gelato al cioccolato! Wow! Manca qualcosa! Scaglie di cioccolato! Questo lo renderà ancora migliore! Ma guardale! Potrei divorarle tutte! Ma le verserò sul gelato! È incredibile! Ok, assaggiamo! Aspetta! Non vuoi vedere il tuo piatto? Certo! Spero sia qualcosa di carino! Eh? Guarda! Fuoco! Chissà se saranno piccanti! Chissà come saranno! Immagino che ci sia solo un modo per scoprirlo! Ok, sii coraggiosa! Non male! Oh oh! Ho parlato troppo presto! È piccante! Wow! Lexi, stai bene? No! Ho bisogno di acqua! Un estintone! Del mais! Lo adoro! Cosa diavolo? Cos'è appena successo? Oh! Popcorn! Figo! Scusa, Leo! Ma che strano! Oh oh! C'è dell'altro! Ah! Mammina! Intendo... Ehm... Hai finito? Non è colpa mia! Come no! Il mio gelato è diventato una zuppa! Non preoccuparti, ho una cannuccia! Ehi, grazie mille! È come un milkshake al cioccolato! Vado io per prima! Non è successo niente! Si fa così! Che sciocca! Ha funzionato! Uh, gomma da masticare al melone! Sembra gustosa! Non vedo l'ora! Adoro il melone! Quindi mi piacerà! È deliziosa! Sono felice che ti piaccia! Farò un palloncino! Wow! Uh, è fantastico! Continua! Che fatica! Oh, le vertigini! Piano! Non voglio che scoppi adesso! Ho avuto una grande idea! Lo farò scoppiare! Ehi, Lexi! Come? Wow! Come hai fatto? Ho dei superpoteri! Guarda! Un piatto pieno di cioccolatini! Beh, addio dieta! Ne vale assolutamente la pena! Sono nel paradiso del cioccolato! Ancora! Ne voglio ancora! Li voglio tutti! Oh, sono tristi! Sono gli ultimi! Ho amato ogni singolo secondo! Voglio provare a fare qualcosa! Le bolle di cioccolato ci possono fare! Santo cielo! Che schifo! Puzza! Sto per vomitare! Ups! Eh, è sicuro! Mai più! Ho ancora fame! Ok, facciamo apparire del cibo! Bene! Può anche andare! Sono felice con qualsiasi tipo di cioccolato! Mangio prima io! Fai pure! Non vedo l'ora! È così buona! Chissà quante ne posso mettere in bocca! Mi piacciono le sfide! Stai andando bene! Facciamo le bolle! È molto divertente! Potrei farlo tutto il giorno! Tocca a te! Una grande barretta di cioccolato tutta per me! E che profumo! Secondo me è proprio buona! Ok, adesso le darò un mosso! Oh sì! È proprio buono! Sono contento che tu sia felice! Sei quasi carino! Sai, mi sto divertendo! Ah! Devi lavarti i denti! Oh! Che cosa? Oh no! Che figura! Ecco, prendi questo! Spero che funzioni! Come va adesso? No! Prova questo! Grande idea! Meglio? Non ci siamo! Ci serve un super spazzolone! Miles, aspetta! Non farlo! Voglio avere i denti bianchi! Oh, la gomma! Ah? Questa sì che mi aiuterà! Mi piace! Come ti sembro? Wow! Hai un sorriso hollywoodiano! Finalmente! Il mio dentista sarà orgoglioso! Questa volta sei fritto! Lo credi tu? Oh! Io vinco sempre! Wow! Quanta gomma! Sul serio? E la mangerò tutta! Oh, guarda! Sembra una fettuccina! Uh! Che cosa sto aspettando? Oh, giusto! Ah? Crema spalmabile mamma al cioccolato! La tua crema al cioccolato sta per avere un bambino! Ah! Fai qualcosa, Miles! Eh, ok! Mi devo cambiare! Sono pronto! Aspetta! Avrei bisogno di questi! Grazie, infermiera Lexi! Oh! Avrei bisogno di un'altra cosa! Questa è per i tuoi capelli! Sta per nascere un bambino di cioccolato! Misturi di gomma! Vado! Posso vedere qualcosa! Congratulazioni! È un bambino spalmabile al cioccolato! Dobbiamo tenerlo al caldo! Ecco una coperta di gomme! Oh, è così carino! Cuci, 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 cu! Che giornata! Che emozione! Inizio io per prima! Ehi, guarda! Ho tre tubetti di gomma agli agrumi! Sono curiosa di provarli! Oh, guarda che belli! Ne spremo subito uno! Iniziamo la prova! Buonissimo! Un mix di limone e arancia! Ehi, ho un'idea! Sperimentiamo un po'! Wow! Stai disegnando con la gomma? Guarda! Una faccia che sorride! Carino, vero? Tutto qui! Pensavo chissà che cosa avresti fatto! Un momento! Che ci faccio con questo? È solo un foglio! Guarda sotto il tavolo! Cosa? Facciamo come dice! Wow! Non ci credo! Un contenitore gigante di gomme! Roba fantastica! La cosa più bella mai vista! Sarà la gomma più grande mai prodotta! Ed è tutta per me! Wow! Guarda quel rotolo! Spettacolare! Do subito un morso! No! Iniziamo da qui! No! Neanche qui va bene! Trovato! Tienilo un attimo! Userò questa macchina per la pasta! Guarda e impara! Metto la gomma nella macchina! Pronta? La accendo! Sì! Esce dai fori per la pasta! Chi vuole gli spaghetti quando hai le gomme? sta andando! Guarda il rotolo! Sembra la ruota di una macchina! Sì! Sì! Altri noodle gommosi! Bene! Dovrebbe bastare! Meglio spegnerla! Mettiamo via il rotolone! Ecco due cucchiai! Pronta a iniziare? Via! È l'ora dei noodles gommosi! Che aroma fruttato! Wow! Delizioso! Adoro le gomme! Anch'io! Non smetterei mai! Apriamoli insieme! Interessante! Gomme ghiacciate e bollenti! Questa sfida sarà divertente! Comincio assaggiandone un pezzettino! Bene! L'odore sembra buono! Menta piperita! Aspetta! Che sta succedendo? Oh! Inizia a far freddo qui dentro! Sto congelando! Sarà la gomma! Wow! Bene! Assaggerò la mia! Vediamo che succede! Odora di cannella! Di sicuro succede qualcosa! Caldo! Wow! Pazzesco! Ehi! Ho un'idea! Scambiamocela! Tu quella ghiacciata! Io quella bollente! Ha un ottimo sapore! Rinfrescante! Ehi! Guarda un po'! Che stai facendo? No! Ho inserito l'intero rotolo in bocca! Oh! Non è stata una buona idea! Buonissima! Aspetta! Che succede? Oh no! È ghiaccio! Oh no! È una statua di ghiaccio! Devo fare qualcosa! Ok! La soluzione è la gomma bollente! Sono nervosa! Ma devo salvarlo prima che si congeli del tutto? Devo farlo per lui! Iniziamo! Wow! È un sacco di gomma! Oh! Caldo! Troppo caldo! Oh! Queste gomme piccanti! E ora? Devo sciogliere il ghiaccio! Ah! Wow! È decisamente caldo! Ah! Stai sputando fuoco come un drago! Dovevo scongelarti! Oh! Ok! Fatto! Va meglio? Sì! Grazie a te! Perché non cominci tu stavolta? Wow! Guarda un po'! Guarda! Si è aperto all'istante! Vediamo che c'è dentro! Wow! È pieno di gomme nere! Chissà che sapore hanno! Sì! Buone! Alla liquirizia! Oh mio Dio! I tuoi denti! Sono tutti neri! Cosa? Ah! Saranno le gomme! Oh! Non ci credo! Guarda quanto nero! Che imbarazzo! Beh! Vediamo cosa abbiamo! Che carine! Sembrano piccole uova! Guarda le macchiette sul guscio! Ne provo subito una! Saporite! Perché la sua gomma non le fa diventare i denti neri? Ehi! Guarda un po' questo palloncino! Oh sì! Lo vedo eccome! È ora di riportarla con i piedi per terra! Eh? Ma che... Ehi! Un telefono! È uscito dal palloncino! Guarda! Non è incredibile! Riproviamo! Ok! Faccio un secondo palloncino! Ok! Scoppiamo anche questo! Ancora! E ancora! Continuiamo così! Non ci credo che ho trovato tutti questi oggetti in queste gomme! Ehi! Proviamo anche le mie! Tarò il palloncino più grande di sempre! Oh! Niente male! Davvero grande! Molto bene! Facciamolo scoppiare! Oh! È stato potente! Aspetta! Cosa? Un giochino a forma di cacca? Non è affatto giusto! Apriamoli insieme l'ultima volta! Oh! Sembrano interessanti! Sì! Ho un'intera scatola ad aprire! Beh, ok! Divertiti! Nel frattempo apro uno di questi! Wow! Davvero invitanti! Devo solo liberarmi di questa carta! Farò un palloncino! Un momento! Cos'è? Ha una forma strana! È come un vero palloncino! Wow! Spettacolare! Mai visto niente di simile! Apriamolo e vediamo cosa dice! Il mio amore è vicino? Davvero? Dove? Ehi! L'ho fatto per te! So che sembra sciocco! Oh! Il mio vero amore! Così vicino! Ecco a te! Aspetta! Dove va? Non le è piaciuto! Oh! Oh mio Dio! È davvero bella! E sta venendo qui! Levati! Ehi! Ciao! Che succede? Non stavamo facendo una sfida! Questa non ci voleva! Non credo che tornerà! Non ci credo che mi ha buttato fuori in quel modo! Eh? Chi c'è? Ehi! Posso regalarti questo fiore? Oh! Wow! È dolcissimo! Ecco a te! Prova questa gomma all'anguria! Vado io per prima! Una cassetta degli attrezzi! Ed è piena di attrezzi di cioccolato! Lavorare con questi mi farà venire una fame! Perché no? Kylie, ricordati di respirare! Ho un braccio bionico! Chissà cos'altro posso farmi crescere! C'è solo un modo per scoprirlo! Mmm! Non perdiamo tempo! Ma come ci riesci? Mi sa tanto che hai esagerato! Dei veri attrezzi! Devo immedesimarmi nel personaggio! Molto meglio! Adesso ti sistemo io, Kylie! Mi sa che ho sbagliato! Beh, buongiorno! E bentornata! Mi piace ballare! 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 È ancora difettosa! Ecco! Evviva! Adesso facciamo entrambe il robot! Sì! Aia! Com'è duro quel metallo! Questa volta inizio io! Wow! Che fortuna c'è del cioccolato! Ed è così grande! Riuscirò a mangiarlo tutto! Mmm! Ed è al latte! Che invidia! Perché non apri il tuo? Non è affatto cioccolato! Sembra uno stetoscopio! Ma sei capace di usarlo? Con questo indosso, sì! Quelle persone hanno bisogno di aiuto! Oh, non stanno bene affatto! Sto arrivando! Chiamata per la dottoressa Kylie! È desiderata il pronto soccorso! Che noia questa sala d'attesa! Che noia questa sala d'attesa! Dai che andrà tutto bene! Fiu! Salvare vite non è uno scherzo! Non credo di essere adatta a questo lavoro! Mi devo riposare! Timberley, tocca a te! Un cd! Wow, ma com'è bello! Ed è il mio genere musicale preferito! Disco music, arrivo! Uff, ma non è giusto! Wow, stai benissimo! Ho un microfono! E i miei capelli! Sì, balliamo per tutta la notte! Woohoo! Kylie, canta! Sei sicura? Ok! Allora apri il tuo! Ok! Anche io ho un cd! C'è scritto top secret! Chissà come mai è così segreto! È ora di curiosare un po'! Mettiamolo qui dentro! Adesso saprò di cosa si tratta! Ehi, sei tu! E anche Joy! Oh, siete così carini insieme! Oh! Ok, è troppo imbarazzante! Oh no! Non il nostro bacio! Non ce la posso fare! Stegnilo! Oh, Joy! Ti amo! Non posso aspettare! Ehm, scusami! Ma questo è mio! Un piccolo profumo al cioccolato! E sembra gustoso, vero? Scommetto che profuma! Uh! È un vero spray al cioccolato! Adesso sei di dolce! Grazie! Adesso devo assaggiare! Ma è incredibile! Ora tocca a te! Ta-da! Elegante! È la bottiglietta più carina che ho abbia mai visto! Scommetto che tutte le star del cinema lo portano! E ora è tutto mio! Oh! Ma com'è forte! Il profumo è divino! Wow! Un tappeto rosso! Sì! Sono qui! Sono qui! Ah! Niente foto, per favore! Quel profumo le ha dato alla testa! Ecco! Aspetta! Che succede? Sono di nuovo qua! È ricoperta di cioccolato! Ma forse non è un male! Il cioccolato sistema tutto! Giochiamocela per chi va prima! Forbici batte carta! E io vado! Un trucco compatto è sempre utile! Ed è anche carino! Una vera perla? Costerà una fortuna! Ed è tutta mia! Cosa? Aspetta! Ce n'è un'altra! Sono infinite! Finite! Vedi? Ho così tante perle da riempirci un'oceano! E ho perso il conto! Ma guardale! E cosa ci farai? Sembrano non finire mai! Io so cosa farci! Non è stupenda! Dovrei venderle! Le vorrebbero tutti! Non è vero? Cosa ne pensi? Tocca a te! Non è di certo uno specchietto! È un macaron al cioccolato! E sembra buono! Sarò io a deciderlo se non ti dispiace! Ma ho un'idea migliore! Aspetta! Wow! Faccio qualche piccola modifica! Del resto, chi non vorrebbe più cioccolato? Credo sia abbastanza! L'assaggio? Dolcissimo! In realtà... Kylie? È stata la migliore idea di sempre! Oh, forse è un po' troppo! Wow! Quanto zucchero! Beh, sono una vera golosa! Oh, mi stavo dimenticando del dolce! Il mio piccolo e dolce macaron al cioccolato! Entra! Ne è valsa sicuramente la pena! Ehi, pensavo fossimo in una challenge! Non c'è nulla qui! Che dobbiamo fare? Non lo so! Ehi! Cos'è questa luce? Oh, una ruota della fortuna! Mi sa che dobbiamo farla girare! Ok, inizio io allora! Wow! Mi è uscito gomma rossa ed è apparsa! Non vedo l'ora di provare! Oh, sono dei pezzettini! Ok, direi di assaggiare! Guarda, guarda, guarda! Mi sono venute le guance rosse! Anche a me! Giriamo ancora! Stavolta mi è uscito rosa! Non vedo l'ora! Uh, la gomma rosa è come zucchero filato! Scommetto che è buonissima! Mmm, sta proprio di zucchero filato! Eh, sta succedendo qualcosa! Oh, ma che? Ah! Sembri Babbo Natale di caramelle! Vediamo che mi esce! Wow, gomma viola! Scommetto che con questa non mi cresce la barba! Sembrano chicchi d'uva! Ok, ecco qua! Mmm! Wow, questa gomma viola è deliziosa! Guarda, mi sono venuti i capelli viola! Pazzesco! Ti stanno benissimo! Anche io li voglio! Mmm, gomma nera sarà interessante! Sembra un mirtillo! Vediamo, chissà di che sa! Wow, che sapore magico! Oh, mio Dio! Hai i denti neri! Stai prendendo le gomme peggiori, mi sa! E gomma blu sia! Spero sia un'altra gomma buona per me! Mmm, perché questa gomma sembra un cervello? Non è nemmeno blu! Beh, è super gommosa, però! Uh, la più buona mangiata finora! Ah, che succede lì? Fammi togliere la maschera! Ah, ci è totalmente caduta! Apriamola insieme, pronta! Ah, di nuovo! Non abbiamo nulla! Aspetta, arriva di nuovo la luce! Wow, sono enormi! Le gomme più grandi del mondo! Vai prima tu, apri! Ok, vado! Oh, mio Dio! Ci credi? È enorme! Scommetto che sei invidiosa! Wow, sono invidiosa, sì! Oh, oddio! Mi ha scivolato e se ne sta andando! Che scherzo è mai questo? Devo raccogliere la gomma che sta rotolando via! Aspetta, perché è invidiosa? Io ho la mia! Oh, ma che diavolo è? Pensavo di avere una gomma anche io! Vabbè, proviamo! Uh, è tutta viscida e appiccicosa! Wow, ed è anche elastica! Sarà commestibile! Mmm, forse le do una sniffatina! Bleh, che odore pestilenziale! E che dovrei farci con questa cosa? Wow, divertente giocarci, però! Finalmente ho riavvolto la gomma! E tu chi sei? Cosa? Tu chi sei? Aspetta un secondo, sono finita nella challenge sbagliata! Colpa mia! Non crederai a dove sono stata! Guarda, lascia stare! Una storia lunghissima! Ok, beh, sono contenta che tu sia tornata! E vai, sei pronta per la prossima challenge! Sì! Un sacco di gomme nel tubetto! E ce n'è per tutti i gusti! Inizio da questo! Lo spremo e do un morso! Wow, è buonissima! Lo so, sono tutte buonissime! Aspetta un secondo! Stai pensando di fare un palloncino più grande del mio? Vai! La mastico velocissimo! Ma che succede? Come fai ad avere tutte queste mani? Perché vincerò? Ecco perché! Sei un'imbrogliona! Ora faccio anche io il mio palloncino! Ho gomma dappertutto! Che sciocca! Ok, ci sono! Sta uscendo benissimo il mio! Wow, quanto sta crescendo! Come faccio a togliermi tutta questa gomma di dosso? Wow, non male qui, eh! Chissà quanto arriverò in alto! Posso vedere tutto da qui? Ehi, esci da qui, uccellaccio! Oh no! Sto perdendo aria e sto tornando giù! Bah, gomma ovunque! Ehi, dove è andata? Da dove vieni? Dal cielo! Ero così in alto! Oddio, non ci credi se ti dico cosa mi è successo! Ok, ultima challenge! Sei pronta? Uh, sembrano spaghetti di gomma da masticare! Wow, carini! Per fortuna che ho con me una forchetta! Ok, assaggiamo! Sembrano diversi! Wow! Guarda, mi sono carinissima! Ehi tu! Che bella che sei! Bella davvero! Oh, mi stavo scordando! Ti ho portato questi! Per me? Davvero? Come facevi a sapere che stavo arrivando? Wow, che odore buonissimo! Ehi, mi senti? Ehi! Che tipa strana! Beh, assaggiamo questa gomma a spaghetto! Il nero non mi ha portato fortuna la scorsa volta! Ehi, ho avuto un'idea geniale! E se non fossero spaghetti ma fili? Che giorno magico! Un sogno che diventa realtà! Oh no, ho l'alito cattivo! Oh, non benissimo! La gomma è l'unica cosa che può salvarmi! Devo masticare in fretta! Che è successo? Come sono tornata qui? Che diamine stai facendo? Oh, sei tornata! Mi sono cucita una sciarpa! Ma con la gomma, quindi è commestibile! Che buona! Vuoi un morso di sciarpa? Oh sì! Certo! Mangiare vestiti non è certo una cosa che si fa tutti i giorni! Wow, hai ragione! È buonissima! Eccoci qui! Sembra un normale smartphone! Ma sa di cioccolato! Posso chiamare con questo coso? Preferirei assaggiarlo! È sicuramente fatto di cioccolato! Ma è un po' sottile! È ora di fare qualche modifica! Ora sì che va meglio! Miam! È buono, eh? Chissà cosa c'è nel mio di piatto! Per me assomiglia a un iPhone! Ed è uno figo! Penso di aver ricevuto un messaggio! Sembra cioccolato! Eccezionale! Eccezionale! Un altro! È il mio preferito! Non riesco a non scorrere! Attenta, Julie! È un sacco di cioccolato! Aspetta! Non verrà fuori, giusto? È un sacco di cioccolato! Oh no! È enorme! Ed è diretto verso il mio piatto! È la cosa più disgustosa che io abbia mai visto! Ma Julie, tutti i tuoi dolci! Paura di un po' di plastica, eh? A me sembra una festa cioccolatosa! È mio! È tutto mio! È un gamepad al cioccolato! È molto meglio dei videogiochi! Sceglierei sempre un dolce spuntino! Wow! Sembra che il mio sia quello vero! Dovrei giocare! Facciamolo! Guarda un po'! Penso di poter vincere! Ehi! Posso provare anche io? Sono nel bel mezzo del gioco! Che noia! Occhio! Ehi! Ma li mangerai tutti questi snack? Silenzio! Sto cercando di concentrarmi! C'è un po' troppo vento, eh? Ecco! Ti serve questo! Julie! È arrivato qualcosa per te! Bene! Mentre Julie è via, Kylie può giocare! È il mio turno per mettermi al volante! Occhio! Sto arrivando! Game over! Speriamo che Julie non se ne accorga! Sono carica di caffeina e pronta! Cosa? Ma non avevo finito di giocare! Ti va di spiegare, Kylie? Come hai potuto rovinare il mio punteggio? Mi dispiace, ok? Dai un'occhiata a questi teschi di cioccolato! Sembrano buoni, eh? Scopriamo se sono veramente buoni! E io? Non sarà mica vero? Mi ricorda una famosa commedia! Riesci a indovinare quale? Ehi! Julie? Puoi chiamarmi maestro adesso? Ci siamo scaldate ora? Sì! Ascolta, non è bello? Come hai imparato a farlo? Sono talentuosa, credo! E ora per il gran finale! Sì, è vero cioccolato! Cosa ti è successo? Sono stata ispirata a fare un monologo! Essere o non essere, questo è il problema! Sono impegnata! Sei più nobile nella mente soffrire! Ti spiace se riprendo la mia testa? Non sapevo fosse tua! Da qua, per favore! È tutta tua, ok? Com'è inquietante! Julie! Ok, puoi averne uno! Questa sì che è una zucca spettacolare! È perfetta, non è vero? Oh, e io? È una zucca al cioccolato! Sembra piuttosto deliziosa, non è vero? È tutto quanto di cioccolato! Che strano! Pensavo fosse commestibile! Che delusione! Abbiamo bisogno di un piccolo aiuto! Ho proprio ciò che serve! Pensi che una mazza funzionerebbe? Ma, probabilmente no! Questo set con scaltello dovrebbe andare! Pronta? Facciamolo! Credo che sto facendo progressi qui! Serve troppo tempo per i miei gusti! È ora di utilizzare un nuovo metodo! Hai! Ia! Wow! Il mio metodo è migliore! Gah! Mi spiace! Si torna al lavoro! Spero di non essermi rotta la mano! Mi serve qualcosa di più potente! Wow! Perché non esce? Ah! Vattene, stupido albero! Dai, apriti! Ehi! L'albero l'ha aperto per me! Il cioccolato è sempre stato lì dentro! Guarda che pezzo! Penso di esserci finalmente riuscita! Non ti aspettavi questa, eh? Ma ancora non ci siamo! Beh, a me sembra ancora noiosa! Forse ho un'idea! Ok, penso di esserci riuscita! È una zucca intagliata, vedi? Ti sembra familiare? Non prendere in giro la mia zucca! Pronte? Non è carina? Chi ha bisogno di una vera borsa? Adesso aprirò il mio! Non è giusto! Voglio un dolce! Ehm... Il coperchio, Kylie! Oh! Certo! Era proprio sotto il mio naso! Se non ti dispiace, vorrei mangiarmela! Sì? Aspetta! Che ne dici di fare a cambio? Ok! Aspetta! Non sai cosa c'è dentro! Vediamo! Non ho idea del perché questo sia qui! Forse a te piace di più la testa! Dove sono? Non importa! Che cos'è questo? Una specie di manico di scopa o cosa? Attenta, Kylie! Accidenti! Guarda, puoi tenerlo! No! Penso di avere quello che vuoi! Di sicuro! Ehi, Julie! Ti ricordi di questo? Oh! Siamo noi, Kylie! Sei la mia migliore amica! E le migliori amiche amano condividere! Non è vero? Prenderò solamente un pezzettino! Guarda questa bellezza! Missione compiuta! Oh sì! Che sapore! Ehi! Cos'è successo alla mia borsa? Avevo tanta fame, ok? Brindiamo al fatto che siamo migliori amiche! Scegliereste il cioccolato al posto della gomma da masticare! Fateci sapere e non dimenticate di condividere questo video con i vostri amici! Assicuratevi di iscrivervi al canale per altri video divertenti! Assicuratevi al canale per i vostri amici!